Musica Nuovo caso di randaggio che aggredisce una licodiese, il fatto è avvenuto stamani nei pressi della scuola Sant'Angela Merici, denuncia ai carabinieri. Musica Rientro in classe dopo due mesi e mezzo per gli scolaretti dell'infanzia del comprensivo Don Bosco, le cui aule erano state danneggiate dal sisma a Santa Maria di Licodia. Cordoglia paternò per la scomparsa a 90 anni del professore Angelino Cunzolo, docente, giornalista, scrittore e uomo di cultura. In eccellenza B di calcio il Biancavilla passa per 1-0 a Messina sul terreno del Camaro e conquista la testa della classifica in solitaria, turno di riposo per il paternò. Buonasera, bentrovati a Ivi24, notizie il Tg di IviTV. La polizia di Stato di Catania ha indagato in Stato di libertà un 23enne catanese responsabile del reato di vilipendio delle forze armate. Nei giorni scorsi la notizia su un quotidiano online del sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico eseguito da personale della polizia. L'operazione è stata aspramente criticata dal giovane che ha postato diversi commenti diffamanti nei confronti delle forze dell'ordine, da qui la denuncia. I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania hanno arrestato in flagranza di reato due persone, padre e figlio, Rudy Castro di 46 anni e Piero Orazio Castro di 25, per concorso in furta aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti e ricettazione. Per il solo padre anche la reiterazione nel biennio della guida senza patente. I due, approfittando dei lavori di manutenzione sulla tratta ferroviaria Caltagirone e Lentini, dopo aver indossato vestiti da operai, hanno smontato del materiale ferroso, dadi e bulloni dai binari, mettendo in rischio la sicurezza dei treni. I due sono stati relegati agli arresti domiciliari. Ennessima aggressione, questa mattina da parte di un cane randaggio a Santa Maria di Licodia i danni di una donna che camminava per strada. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri. I dettagli nel servizio di Luca Crispi. Una donna sarebbe stata aggredita questa mattina da un cane randaggio nei pressi della scuola Sant'Angela Merici di Santa Maria di Licodia, dopo che la stessa aveva accompagnato i propri figli a scuola. A segnalare quanto accaduto, prima tramite social e poi attraverso una denuncia ai carabinieri della locale stazione, è stata la stessa donna vittima dell'aggressione. Secondo quando affermato dalla Licodiese, il cane randaggio avrebbe azzannato lo stivaletto, senza però ferirla. A confermare la tesi dell'aggressività di alcuni cani presenti in paese, anche un'altra donna Licodiese, che ha spiegato a Divi24 come in diverse occasioni sia stata inseguita da due cani che le ringhiavano contro. Il problema delle aggressioni da parte di cani randaggi nel piccolo centro etneo richiede certamente un'attenzione particolare. Negli ultimi mesi sono diversi i casi di aggressione o tentata aggressione da parte di cani che si trovano liberi di vagare sul territorio. Poco più di un mese fa, ad essere stata vittima di un'aggressione, era stata una tredicenne Licodiese, che si era vista azzannare lo stivaletto da un randaggio di grosse dimensioni. Prima ancora, un'altra donna era stata accerchiata da diversi cani mentre passeggiava con il proprio amico a quattro zampe. Intervento intorno alle 15.30 di ieri a Paternò dei Vigili del Fuoco in piazza del Ficus per un incendio a seguito di una fiammata sviluppatasi da una stufa a gas. All'interno dell'abitazione, al momento dell'incidente, era presente un uomo di 40 anni che avrebbe cercato in ogni modo di bloccare la fuoriuscita di gas. Le fiamme che si sono sviluppate nell'appartamento hanno causato danni alla cucina. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza del 118 a scopo precauzionale. Non si sono registrati feriti. La dea bendata della Lotteria Italia ha baciato nella serata di ieri anche la provincia di Catania con due biglietti fortunati. Il primo del valore di 50.000 euro è stato venduto a Giarre mentre il secondo di 25.000 euro è stato venduto a Paternò. Come è noto, la Campania è stata baciata dalla fortuna con il primo premio che è stato venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno. Dopo due mesi e mezzo dalla chiusura, a seguito di problematiche strutturali legate al terremoto del 6 ottobre, ha riaperto questa mattina il plesso solferino del comprensivo Don Bosco, la Santa Maria di Licodia che ospita al suo interno una parte degli scolaretti della Scuola dell'Infanzia del Paese. Sentiamo Luca Crispi. Hanno fatto rientro questa mattina nelle aule della Scuola dell'Infanzia del plesso solferino i piccoli scolaretti di Santa Maria di Licodia che avevano dovuto lasciare la struttura scolastica lo scorso 23 ottobre a seguito di alcune problematiche strutturali legate al sisma che ha interessato il comprensorio sud-occidentale dell'Etna il 6 ottobre scorso. A decretare la riapertura dell'edificio è un'ordinanza del sindaco datata 3 gennaio che revoca il precedente atto attraverso il quale veniva chiuso al pubblico l'istituto scolastico. Nella tarda mattinata del 23 ottobre, ricordiamo, dopo un tantam su WhatsApp i genitori dei piccoli avevano prelevato i propri figli anticipatamente da scuola a seguito di un'evoluzione di una crepa su un muro divisorio tra i bagni e il corridoio ed un accentuarsi dell'umidità nel solaio di due aule. Il progetto con il relativo preventivo di spesa per l'eliminazione delle criticità della struttura che ammontava a circa 9.000 euro, IVA compresa, era stato predisposto già a metà novembre dall'ufficio tecnico comunale. I danni non sono strutturali, quindi la scuola non corre grandi pericoli, aveva detto nel mese di ottobre il primo cittadino, Salvatore Mastroianni. La protezione civile, insieme all'ufficio tecnico, hanno ritenuto di dover chiudere la scuola perché si è evidenziata una crepa diversa rispetto al passato. Nel frattempo, dal 6 novembre scorso, i piccoli studenti avevano ripreso le proprie attività all'interno del plesso centrale del comprensivo Don Bosco. Gli scolaretti licodiesi, ai quali si era voluta garantire una continuità didattica, erano stati accolti all'interno di due grandi aule nel seminterrato, fino a quel momento adibite ad attività motorie ed immensa. Continua a tremare la terra alla base del vulcano. Una scossa di magnitudo 2.9 della scala Richter è stata registrata alle 2.31 di questa notte dagli strumenti dell'INGV. Epicentro, 4 chilometri a nord-ovest di Nicolosi, con un ipocentro a 2 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita da molti abitanti dell'area pedemontana. Altri due tremori, entrambi di magnitudo 1.4, si sono verificati alle 8.29 e alle 12.14, rispettivamente a 7 chilometri nord-est da Ragalna e a 7 chilometri ovest da Zafferana. Non si registrano danni a cose o persone. La misericordia di Zafferana e Tannea ha precisato la propria contrarietà nei confronti di un pasto negato nella giornata di ieri a una famiglia con una bambina. Si tratta di una delle famiglie che è stata colpita dal sisma del 26 dicembre scorso. Secondo quanto si legge nella relazione di servizio a firma del governatore, la situazione ritenuta intollerabile riguarda il comportamento di un'associazione che nel rispetto di alcune indicazioni dell'amministrazione comunale avrebbe negato il pasto a degli sfollati. Una scena poco gradita dagli occhi dei volontari della misericordia di Zafferana che hanno comunicato contestualmente al Comune la non disponibilità a coprire ulteriori turni di servizio. In queste ore a mediare sulla vicenda il Presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, Alfredo Di Stefano, che sta provando a fare chiarezza sull'accaduto cercando di garantire la presenza delle misericordie nei luoghi terremotati. Cordoglio appaternò per la scomparsa avvenuta sabato scorso del Professore Angelino Cunzolo che fu docente, giornalista e scrittore. I funerali sono stati celebrati quest'oggi nella Chiesa di Santa Barbara. La figura di Angelino Cunzolo ce la ricorda Lucia Paternò. L'ultimo saluto nella Chiesa di Santa Barbara gremita come in poche altre occasioni è stato dato oggi pomeriggio al Professore Angelino Cunzolo che è passata a miglior vita all'età di 90 anni. Giornalista, scrittore, poeta, conferenziere, docente di matematica erano tanti i ruoli rivestiti da Angelino Cunzolo ma solo uno la sua missione educativa raccontare nelle varie forme possibili quanto di affascinante, di unico via paternò e nel territorio etneo. Padre e marito amorevole, non affettuoso lascia un vuoto e un'eredità etica sulla preservazione della storia locale che non può essere accantonata. Ha istituito diversi premi, resi dal di poesie, si è fatto promotore di mostre collettive d'arte e lui stesso ha ricevuto premi onoreficenze. L'omaggio alla sua lunga carriera conferito dall'Ordine giornalisti di Sicilia, il premio Giuseppe Fava per il giornalismo e il premio Aquila d'Argento solo per citarne alcuni. Corrispondente della Sicilia e fondatore della Gazzetta dell'Etna per quasi mezzo secolo ha narrato da cronista ed appassionato le vicende della sua terra, ha inoltre ideato il recital di Santa Barbara e istituito il premio Dirsi. Nell'elogio funebre di padre Salvatore Magri, parroco della Chiesa intitolata la Santa Padrona, è stata evidenziata, oltre a tutte le sue qualità umane, quella di fervente cattolico, di umanista cristiano e la sua fede si rispecchiava nella sua opera anche nell'impegno culturale verso la sua comunità. La cerimonia è stata concelebrata dal vicario forano Alessandro Renzi Valle e da padre Salvatore Alì della parrocchia dello Spirito Santo. Toccante è stato anche l'intervento commemorativo del primo cittadino Nino Naso che ha sottolineato la generosità anche intellettuale del professore Cunzolo. In conclusione, uno dei nipoti ha recitato una sua lirica sul tema del bene. Risveglio imbiancato, quello di sabato per tanti abitanti nei paesi ai piedi dell'Etna. Già dalla serata di venerdì la neve ha iniziato a cadere copiosa intorno ai 400 metri sul livello del mare. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare oltre 30 richieste di intervento di soccorso per automobilisti in difficoltà o finiti fuoristrada. Su via Solicchiata di Adrano nei pressi dell'imbocco con la statale 284 i pompieri del locale di staccamento sono stati chiamati per un incidente stradale autonomo di un auto articolato che trasportava una gru che si è ribaltato. Sulla provinciale 80 Arteria che da Biancavilla conduce verso la statale 284 in un tir in panne a causa del ghiaccio sul manto stradale ha mandato in tilt il traffico sull'Arteria. Preziosa anche l'attività dei tanti volontari delle locali associazioni di protezione civile che hanno cercato di fronteggiare la formazione del ghiaccio attroverso lo spargimento di sale sul manto stradale. E come vedete queste sono delle immagini molto belle realizzate dall'alto. E siamo al calcio il Biancavilla di mister Di Gaetano resta in vetta da solo e elimina almeno per il momento una delle più dirette avversarie il Camaro sul cui terreno i gialloblu si sono imposti nella giornata di ieri. Sentiamo. Comincia con una vittoria pesantissima nel big match contro il Camaro il 2019 del Biancavilla di Patronventura che nel sedicesimo turno di eccellenza primo del girone di ritorno supera di misura al Desparstadium di Messina i padroni di casa nero-verdi ancora imbattuti in stagione sul terreno amico. Partono subito forte i padroni di casa che provano a sbloccare il match con Paludetti che prova a correggere in rete il corner battuto da Mondello ma il suo tentativo finisce sul fondo. Pochi minuti dopo sempre di testa e Genovese a impensierire un ottimo vitale che blocca abilmente la sfera. Passano i minuti e gli ospiti cominciano a carburare e la prima conclusione nasce dal sinistro di Lucarelli che accarezza il palo. Alla mezz'ora il biancavillese Ancione ex di turno sfiora la rete con una punizione insidiosa ma poco incisiva. La rete che deciderà lo scontro diretto tra le due compagini arriva al quarantesimo e porta la firma di Bulades che dopo un ottimo scambio con Savasta lascia partire un sinistro raso terra che spiazza Sanne. Nella seconda frazione di gioco il biancavilla ebbe messo in campo ed argine ai tentativi nero-verdi di riportare in parità la sfida. Tre punti che pesano e che consegnano al biancavilla la testa solitare della classifica complice anche il pari esterno del Marina di Raguse impegnato sul campo del Terme Vigliatore. Appuntamento a domenica prossima con i Gello Blu che ospiteranno il Giarre all'Orazio Raiti ed il Paternò che dopo aver affrontato il turno di riposo farà visita al fanalino di coda Re Alaci. Siamo in chiusura ma prima dei saluti vi ricordo che potete rivedere queste e tutte le altre edizioni del nostro telegiornale sui canali ivi24.it e ivi.tv.com ovviamente canali web per ogni segnalazione potete contattarci ai recapiti che vedete in sovrimpressione. Per rimanere invece sempre aggiornati sulle ultime notizie del comprensorio seguiteci. ivi.tv sui principali canali social ma anche sul canale Telegram. È veramente tutto a voi un buon proseguimento di serata con i programmi di ivi.tv Buonasera. Grazie.